I socialisti cercheranno il chiarimento interno lunedì con una delegazione dell'esecutivo cittadino. Il rinvio ieri in commissione della delibera sul progetto Decathlon non è piaciuto all'assessore allo sviluppo economico e patrimonio Federico Iuppa che ha abbandonato il consiglio comunale di Foggia minacciando le dimissioni. Partita sei mesi fa la vicenda ormai va per le lunghe e sta innescando aspre polemiche su tutti PD e UDC mentre si spacca lo stesso gruppo socialista. Il progetto della CDSRL avrebbe le carte regola avendo incassato tutti i via libera necessari, località individuata, posta palazzo e lungo la stata alle 16 attraverso una variante urbanistica in verde agricolo non essendo il comune ancora dotatosi di un piano per le attività produttive ma la maggioranza non trova l'accordo su tutti i PD e UDC e slitta il via libera alla delibera prodata per ben due volte in consiglio nel giro di dieci giorni mentre si allungano i tempi per tutto l'indotto produttivo che il progetto potrebbe e dovrebbe sviluppare con i suoi 30 posti di lavoro. Arriva invece il nulla osta maggioranza con il voto dell'ex di Petrista Trecca, oggi indipendente, la consueta stensione del centrista Menuno al nuovo elettrodotto Foggia Benevento, l'iterna SPA e il comune di Foggia si prepara ad incassare circa 240 mila euro a titolo di compensazione per l'impatto ambientale dell'opera anche se si affretta a rassicurare l'assessore russo nessun aggravamento ci sarà per il territorio. Il denaro verrà utilizzato per la realizzazione di un'opera pubblica che la giunta Mongelli provvederà ad individuare. Un nuovo centro socioculturale sorgerà invece in zona macchia gialla con fondi ministeriali e privati. La localizzazione tra via l'Europa e via Cavotta, suolo inserito nel piano degli alienazioni, è stata approvata all'unanimità dalla Sise, soluzione adottata per consentire il completamento di quel piano di riqualificazione urbana avviato nel 96 con la soffra costruzioni.